Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha ritirato le dimissioni che aveva presentato per potersi candidare quale presidente della regione Abruzzo alle elezioni del 10 febbraio 2019. Lo ha fatto ieri sera al termine di un confronto serrato con la maggioranza e con la Giunta e che potrebbe precludere, nel caso proprio della Giunta, anche ad un rimpasto, mentre sembra certo un patto scritto di fine mandato con la maggioranza. Di Primio scrive su Facebook che non si dimetterà di nuovo per avere altri 20 giorni a disposizione, come ha fatto qualche altro collega. Di Primio non nasconde anche il disappunto per aver ancora una volta dovuto accettare scelte calate dall'alto, prima le politiche cedendo collegi, oggi lasciando che gli altri decidano su chi deve governare la regione. Forse una registrata alla classe dirigente locale andrebbe data, dice ancora Di Primio. Ovviamente sono pronto a fare la mia parte a sostegno del candidato presidente dell'intera coalizione di centrodestra. Di Primio continua dicendo di restare dell'avviso che, se si fosse fatto di più qui a Roma, si poteva andare con una nostra proposta, una proposta abruzzese da valutare. Per quanto riguarda il Comune di Chieti, osserva il primo cittadino, si va avanti sul cammino già tracciato con rinnovato slancio e determinazione. Di Primio ha dettato le condizioni per continuare il lavoro in comune e per continuare il servizio alla città. Ho idee ben chiare, continua il primo cittadino, su quello che dobbiamo fare in questi 18-19 mesi che ci separano dalle elezioni. Così come ho chiaro che solo il raggiungimento degli obiettivi che concorderò con la maggioranza che c'è e che vorrà esserci è il motivo per continuare l'impegno in favore della città. Infine, nessuna risposta a chi sperava nelle dimissioni o ancora ci spera per governare la città, per ben due volte mi sono sottoposto al giudizio, ha detto Di Primio, e ho tenuto la fiducia della gente. Altri, gli stessi che speravano nelle mie dimissioni, hanno fatto lo stesso ma hanno perso. Nessuna scorciatoia dunque per gli sconfitti, conclude Di Primio, quando ci saranno le elezioni e solo allora e solo battendo il centrodestra se ne saranno capaci potranno prendere il mio posto.